Una proposta di legge per caldeggiare la vendita e la concessione dei beni confiscati alla mafia a favore di enti, società, imprese, confini sociali. Parte dai tele dei valori il disegno che dovrebbe snellire l'intasato iter burocratico per la riqualificazione dei beni immobili sequestrati agli esponenti della criminalità organizzata. Il segretario nazionale IDV, Ignazio Messina, ha incontrato il presidente della Repubblica Napolitano per esporre il tema. L'obiettivo è quello di non disperdere un patrimonio perché tra l'altro i beni possono essere richiesti da comuni, province, regioni, possono essere richiesti da associazioni, ma ci sono industrie, ci sono appartamenti di lusso, ci sono beni che vanno gestiti e non certo da un amministratore giudiziario. Avrebbe impedito la vendita di questi beni, basta una quota, sono circa 80 miliardi, basta vendere nel 30% è già una manovra finanziaria. avrebbe impedito l'aumento dell'IVA, avrebbe certificato il non aumento dell'IMU, aggiungo, avrebbe dato risorse alle piccole e medie imprese, alle famiglie e alle classi sociali più deboli. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della proposta a Palermo non è mancata una frecciata rivolta al ministro dell'Economia Saccomanni. Ci sono confiscati 2 miliardi in titoli di Stato, allora se è difficile vendere un'industria, ma perché non si vendono i 2 miliardi di titoli di Stato? Ho chiesto al ministro Saccomanni e non mi ha dato risposta.